Tartufficultura e castanicoltura nelle Marche, opportunità e prospettive. È il titolo del seminario che si è svolto a Rocca Fluvione presso la nuova Aula Magna dell'Istituto Comprensivo del Toronto e Val Fluvione, con l'intenzione di analizzare i vantaggi dei recenti bandi europei che la Regione Marche sta predisponendo a sostegno di un settore con enormi potenzialità economiche di sviluppo, contribuendo alla crescita delle aree interne del territorio. Abbiamo in mente di creare una vera e propria filiera legata alla castagna che impiegherà ovviamente risorse, dovrà vedere il coinvolgimento dei produttori del territorio per creare anche una nuova economia legata a queste aree. Già sono state fatte delle iniziative importanti, io ho attivato un tavolo proprio della tartufficultura dove sono presenti tutti, dai produttori, le associazioni, i cavatori, i commercianti, perché è importante anche parlare delle fasi di trasformazione, quindi prodotti freschi, castagna, tartufo, ma anche le varie fasi che poi creano anche queste una economia attraverso la trasformazione. La valorizzazione della castanicoltura da frutto non solo contribuirebbe alla tutela ambientale, ma potrebbe anche contrastare lo spopolamento di alcune zone rurali, offrendo opportunità occupazionali e di sviluppo sostenibile. Da qui la predisposizione di appositi bandi. Mediante il miglioramento e il recupero, soprattutto il recupero delle superfici di castagneto da frutto che sono state abbandonate da sin dopo la seconda guerra mondiale per riportare la produzione delle marche e anche la qualità, non solo la quantità, della produzione castanicola marchigiana a dei livelli comparabili con gli anni 60-70. Già si sono recuperati 128 ettari, si pensa con questo bando di farne circa altrettanti e quindi una superficie molto significativa pari a quella che attualmente coltivate dove si raccoglie. Un altro importante intervento è quello a favore della tartuficoltura, un settore già ben avviato e dalle interessanti prospettive, che deve sapere affrontare il mercato e alcune criticità, non ultimo il cambiamento climatico. È un'opportunità importante perché comunque può essere una fonte alternativa di reddito e ci sono dei fondi sia per l'impianto che per le manutenzioni per fino a 10 anni, quindi una buona opportunità di intervento sul territorio. Oggi siamo qui a Roccofeuione che è un po' l'emblema di quello che è anche un'area molto focata per il tartufo, quindi dare la possibilità a piccole aziende di fare piccoli interventi sul territorio dandovi dei contributi per l'impianto all'80%, poi dei premi per 5-10 anni per il mancato reddito e manutenzione mi sembra comunque importante. Grazie a tutti.